D'acquisto virtuale al rinforzo reale con questa bella notizia che del pomeriggio Giovanni Buccaro riprende gli allenamenti con i suoi ragazzi in vista della partita, quella di sabato contro il Lanusei più importante dell'anno. Con un alfagame in più riabilitato dal Tribunale federale nazionale il tecnico di Palermo dovrà cercare di vincere questa partita da dentro o fuori perché quando sei a 10 punti dalla vetta non puoi permetterti assolutamente nemmeno di pareggiare questa gara in Sardegna se vuoi continuare a sperare nel primo posto. E' una partita da dentro o fuori anche quella che oggi gioca la Scandone, la gioca in Lettonia per salvare il cammino in Coppa in Champions, una vetrina importantissima che probabilmente la città di Avellino non ha apprezzato ancora o non si rende conto di che cosa sia avere anche una squadra di basket a questi livelli. E' la settimana quindi più importante dell'anno, soprattutto più delicata, più tesa immaginiamo per Gianandrea De Cesare, lui che ha in mano calcio e basket e che sta sperimentando quanto sia difficile avere a che fare proprio con gli umori di questa piazza così ballerina. Una piazza è una tifoseria, ma i veri tifosi sono quelli che frequentano il Pala del Mauro e frequentano nel bene e nel male anche il Partenio Lombardi, non certo i tifosi che invece sfogano sui social i loro problemi. Quindi problemi che, questa è un'analisi che ci porta un po' fuori strada, spesso hanno con l'arteria o con la loro vita che non gli ha regalato chissà quali soddisfazioni, quindi cercano di avere una certa notorietà, diciamo così, attaccando gli altri. Però non siamo tra quelli che la settimana prima invocano l'accantonamento di De Vena o di Sforzini e quella successiva rimpiangono l'assenza magari di Sforzini. Diciamo semplicemente che in maniera costruttiva noi ormai ci troviamo di fronte a un bivio. Per il basket questo bivio oggi ci dirà se si continua in Champions o ci si ferma qui. In ogni caso è una storia che continua anche perché la Scandone ha ancora da giocare le Final 8 e ha ancora un campionato che entra nel vivo. Discorso più o meno identico per il calcio dove il ritardo effettivamente è grave ma con Alfageme che, attenzione, è argentino ma non è Maradona quindi non lo carichiamo di eccessive responsabilità anche perché non gioca da due mesi, e ci prepariamo a vivere questa partita. Buccaro la può preparare come meglio crede nella serenità più assoluta da sabato sera. Trarremo le nostre conclusioni ma in un caso o nell'altro sia il calcio che il basket non si fermeranno in Lettonia o all'Anusei. Abbiamo un futuro ma abbiamo un futuro da costruire con programmazione e razionalità.